Dai più valore alla tua casa se usufruisci degli incentivi per le ristrutturazioni con il prestito Rinnova Casa e Detrai. Finanzi fino al 50% delle spese, lo restituisci in 10 anni con una rata annuale nel periodo del rimborso fiscale e cominci a pagare dall'anno prossimo. Chiedi in filiale. Banco di Sardegna. Ogni giorno con te.